Allora, noi abbiamo riavviato tutti gli screening dei tumori più pericolosi, si chiamano Big Killer. Uno in particolare, quello del colon retto, lo abbiamo realizzato con una modalità innovativa, con la collaborazione delle farmacie che raccolgono campioni tra i loro clienti, campioni di feci, chiamiamo le cose con il loro nome. Attraverso questi campioni abbiamo suggerito a moltissimi pazienti di approfondire gli esami questi esami ovviamente, peraltro in questo modo, possono essere programmati quindi una colonoscopia fatta così per curiosità rischia di far perdere tempo ai medici perché non è uno scherzo, è una cosa che ha la sua complessità. Viceversa, quando c'è un'indicazione che deriva dalla segnalazione dello screening tutta la procedura è programmata, è più veloce e noi abbiamo, diciamo, in questa maniera individuato all'inizio tumori che quindi sono stati operati anche molto più rapidamente con risultati assolutamente positivi. Tutto questo è stato riorganizzato in pochissimo tempo, nel senso che ci ha anche consentito diciamo la verità di ottenere dai farmacisti molta collaborazione in tanti altri settori che ci hanno consentito un risparmio sullo spreco farmaceutico. La Puglia purtroppo per vent'anni ha buttato via 300 milioni di farmaci inutili ogni anno con quei 300 milioni avremmo costruito due ospedali nuovi all'anno e invece con il danaro che stiamo risparmiando dalla farmaceutica in spreco e i farmacisti ci hanno dato una mano enorme stiamo assumendo migliaia di persone stiamo per assumere 4.000 operatori sanitari e più di 2.000 infermieri quindi riusciremo a fare sia i concorsi che le stabilizzazioni e stiamo finalmente riuscendo a uscire dal blocco del personale negli ospedali e nelle strutture sanitarie pugliesi che era stato realizzato nel 2001 con un atto folle, scriteriato che ovviamente aveva messo in gravissima difficoltà la sanità pugliese. Adesso avremo personale, medici, infermieri, operatori sanitari abbiamo la collaborazione dei cittadini e dei farmacisti e non ci fermeremo qui.